buongiorno a tutti buongiorno nuovo video blog barra pulizietta la mia camera allora nulla questo è appunto un viso dove faccio la posizione della mia camera e poi non la parlo se riesco a salire durante un altro video comunque niente e adesso faccio le mie posizioni della mia camera cioè la lavo non so se la spolvero anche però nel frattempo faccio il letto perché voi non vedete ma ho un cavalletto che ho posizionato aspettano aspettano non entrare che ho posizionato nel sopra del telefono e quindi niente e quindi ho trovato un cavalletto anzi che con quella di cinese che era nella mia posizione trucco e l'ho voluto comprare cioè l'ho voluto già prendere che un po' sesso io era sempre era solo le mie stelle trucco e quindi niente l'ho nulla ma semplicemente come dire l'ho preso da dove c'avevo già io il po' sesso e l'ho utilizzato per usarlo il telefono niente comunque non è l'esempio per prendere il tempo e ci vediamo anche per un nuovo video allora faccio un minuto un altro video un altro video Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 l'ho cancellato. e niente. a tutti. 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 a tutti.